ciao ragazzi costruiamo una casetta per gli uccellini e impariamo a contare fino a sei uno due tre quattro cinque sei per iniziare prendiamo una tavola e con una sega dividiamola in parti dividiamola prima in due parti dividiamo poi le due parti in tre parti giusto abbiamo sei piccole tavolette adesso costruiamo la casetta con le nostre parti una parte due tre quattro cinque sei costruiamo l'ingresso è pronta anche agli altri uccellini piace questa casetta costruiamone un'altra una c'è già due tre quattro cinque sei ragazzi abbiamo costruito delle casette meravigliose adesso contiamo ancora il trattore ha sei rimorchi la formichina ha sei gambine una gambina due gambine tre gambine quattro cinque sei gambine sei alberi sei mele sei uccellini sei casette sei chiodi ciao iscriviti al nostro canale e guarda i nuovi cartoni